Salve! What? Edwina! Posso aiutarla? Sì, sto andando dai signori Kendrick al 4 e... A quest'ora, signore? Mi stanno aspettando. Sei venuto per uccidermi, Benjamin? Sono qui, Charles, perché hai ammazzato mia figlia. Ucciderò tua figlia. Ti ricordi il nome di Charles Widmore, vero? Perché avrebbero dovuto assassinarla? Chi è il prossimo? Ha detto che lei e io abbiamo interessi in comune. Perché non mi dice quali potrebbero essere? Uccidere Benjamin Linus. Ho appena ucciso l'uomo che sorvegliava questo istituto da una settimana. Tu padre è una persona veramente orribile. È responsabile dell'uccisione di mia figlia. Ecco perché sono qui. Io so chi sei, Giovanotto. Che cosa sei? So che tutto quello che hai, lo hai rubato a me. Fermi! Prende un viaggio piuttosto infinitivo. Aiuto! Aiutatemi! Prende un viaggio piuttosto infinitivo. 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 Grazie a tutti.